La lento giustizia resta il problema più grave ma a causa delle disfunzioni della macchina giudiziaria si segnalano procedimenti anche a carico degli stessi magistrati. Al fenomeno non è stranea la frequenza di inchieste che toccano i nervi scoperti di un sistema di potere. Vito Marino Caferra, presidente della Corte d'Appello di Bari, non fa sconti a nessuno nella relazione che apre l'anno giudiziario neanche ai suoi colleghi. Non mancano conflitti tra gli stessi magistrati con inevitabili ricadute negative sull'intero sistema giudiziario, scrive dopo aver rimarcato il problema del passaggio dalla magistratura in politica. Caferra sottolinea anche il rischio dell'uso improprio del modello 45, l'iscrizione degli atti non costituenti in notizia di reato, la drammatica situazione delle carceri e dell'edilizia giudiziaria, in mancanza di alternative e una soluzione ragionevole sarebbe la cittadella, fanno il resto. Certo allo studio ci sono diverse riforme ma la clausola dell'invarianza finanziaria potrebbe renderle poco praticabili. Il disagio della giustizia colpisce anche gli avvocati, tanto che il presidente dell'ordine, Manuel Virgentino, non veste la toga. È stata umiliata, dice, dalle condizioni in cui si lavora, da un aumento dei costi che ha portato decine di cancellazioni dall'albo di giovani avvocati e anche dal fatto che accedere alla giustizia è diventato sempre più oneroso. Non poteva mancare il passaggio sul tribunale di Lucera, un massacro della geografia giudiziaria lo definisce l'onorevole Sisto.